Il giornale, i dati del 2014 degli incidenti sul lavoro in Piemonte, sei incidenti invalidanti gravi al giorno, una morte bianca alla settimana, 50.500 infortuni in un anno, 98 mortali con un calo del 7,4% degli infortuni ma un aumento del 6,5% di quelli mortali. I dati sono stati illustrati in occasione di Sicurezza e Professioni, 5 ordini per la cultura integrata della prevenzione, evento che ha visto insieme per la prima volta 5 categorie professionali a riflettere sul tema della sicurezza. Fra gli interventi quello del procuratore generale Francesco Saluzzo che ha sottolineato come in Piemonte dal punto di vista dei procedimenti la situazione è nettamente migliorata, cresce la cultura del mettersi in regola. Rispetto ai procedimenti ha detto però che le prescrizioni continuano a costituire un problema.